Scusatemi il super, il super ritardo di oggi, oggi veramente quasi un record mi verrebbe da dire, però benvenuti ci siamo finalmente Ci siamo, perdonatemi ma ho lavorato fino a ieri sera per impostare la live di domenica su youtube e dovrò ancora fare qualcosina Tradotto, sono andato a letto tardi, mi sono svegliato ancora più tardi, poi dopo ho dovuto preparare l'annuncio della Soulink con Matteo Agostini Recuperate il post su youtube se non l'avete visto o su instagram perché è un post importante che spiega un po' il concept della serie Che rende omaggio alle Soulink vecchie dal 2015 al 2018, una parte importante della storia del canale youtube, quindi andatelo a vedere Poi ho dovuto sistemare un po' la casa perché è un inferno nell'altra stanza e mi pare di essere Andrea Di Pre E di conseguenza ecco giustificato il ritardo di ben 8 minuti, quasi un record per la nostra Asionda Allora senti un attimo, nel mentre che arrivate, che vi accalcate per assistere al peggiore comunque content creator italiano Che comunque fa il migliore degli edifici del parcolotto, comunque uno dei migliori, uno dei più fighi Chupa Chupa, grazie per il Prime Un periodo un po' strano in realtà Ieri molto peggio, oggi molto meglio Oggi molto meglio Ieri non una giornata incredibile Oh si Juan, grazie per il sesto mese, benvenuto Vi ricordo, visto che vi ho visti partire belli carichi, a parte che sta partendo Live Train Che con Amazon Prime la sarebbe gratuita per tutti quanti, se avete ovviamente l'account Amazon Prime Altrimenti potete fare l'abbonamento ad Amazon Prime, avere i vantaggi di Amazon Prime Quindi le consegne di Amazon Veloce, queste robe qui incredibili Non so se Amazon Prime è anche Prime Video, porca troia, vuoi mettere la Champions League? La danno ancora su Prime Video, non lo so, però Prime Video Prime Video Poi, aggiungo Abbonamento a Twitch Quindi su Twitch invece c'è ancora Eh, si è diventato Sapete Berlusconi quando fai uguale Vi dicevo, ci sono un sacco di Vantaggi per i sub Quindi c'è il gruppo Discord, non vedete gli annunci Avete l'emoticon, avete doppi punti canale Quindi potete riscattare più facilmente le ricompense con i punti canale Eeeh Non mi viene in mente altro Ma sicuramente esiste Fatemi spammare la live Su Youtube E poi ci siamo E dopo l'annuncio Della Soul Link Con Matteo Matteo Agostini Oggi ci Fiondiamo in un Oh si! Oh si! Suo campo Oh si! Cristian Di Franco Ha rinnovato l'abbonamento per 5 mesi Dai ecranco Campo di battaglia preferito Azienda lotta Ma su Pokémon Smeraldo E speriamo che a Sto giro Ho sbagliato l'apostrofo A sto porco A sto giro Non si Glitch Eeeh Chi ha sabbato? Cristian Franco Verrai giustiziato Grazie Cristian per il quinto mese Benvenuto Non so perché mi ha fatto così tanto ridere Vabbè Eeeh Voi 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 Dovete accettare queste cose Dovete accettare queste uscite un po' così Strane Uno fa la sub Verrai giustiziato Non vuol dire niente Va bene così E questo è il bello di questo canale Oh si! Vor anche tu verrai giustiziato Benvenuto Oh si! Ed è stato completato Live Train A livello 1 credo Questo non mi impedirà di chiedervi Di completare anche a livello 2 Chiedervi Che poi non è una richiesta ragazzi Ovviamente È una pretesa Cioè stacco la stre Niente Oggi sono invenati Di prendervi per il culo Allora 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 Fatemi fare tutti gli spammini Del caso Sera fai Shinylock No pasta con limone Leggi la programmazione La trovi sotto l'estream La Shinylock È di martedì e venerdì Solitamente Eeeh Quando rimango bloccato Su uno Shiny È solo di martedì Però Dalla prossima settimana Probabilmente sarà sia martedì Che venerdì Eeeh Anche se c'è la serie con Ago Quindi Eeeh Non lo so Vediamo Eeeh Però Seguitela la programmazione Per favore Eeeh Datemi Per Consentitemi di respirare In questa vieta Eeeh Storia Instagram Dov'è il mio telefono? Storia Instagram Sì sì Allora Adesso che ho trovato Cotton e Shiny Che siamo belli tirati nel gioco Potrei aumentare gli appuntamenti Però devo vedere Come sono organizzato Con la roba di Ago Perché Octopath Non si schioda più Non riusciamo più a finirlo Eeeh Caped Lo devo recuperare È un casino È tutto un disastro In questo periodo Signori siamo in live Con l'azienda Lotta Di Pokemon Smeraldo L'ultima volta Si è glitchata Letteralmente È successo un disastro Ma ci siamo Oh sì Dani Grazie per il time Oh sì Ti aspetto in live Dani 2119 Ha rinnovato l'abbonamento Per due mesi E l'interazione Con la community Facendo finta Che mi interessi di voi Quando mi interessano Solo i vostri soldi È finita Vi prego Non mi prendete seriamente Queste Queste Sono tutte gag Fondamentalmente Queste sono tutte Tutte battute splendide No la live su youtube Ragazzi è domani Non è vero Che mi interessano Solo i vostri soldi Un po' Oh sì Un po' Non si nega Però non solo Paola Grazie mille Per il dodicesimo mese Quante sub oggi? DJ Buona fortuna Crappo Eh sì Un anno Pensa te Perché io mi stupisco Quando mi arrivano le sub Di due anni ancora Quando c'è Giovi che E non solo E anche Nico E anche Tura Che hanno la sub Di tre anni ormai Io li guardo e dico Ma Parte perché? Smettete E poi Cristo Cristo madonna Tre anni Tre anni Penso che Tre anni Sia anche Quasi Il tempo Di distanza Rispetto Alla L'ultima stream Su youtube Perché L'ultima stream Su youtube Sono abbastanza Sicuro Che fu fatta Per l'annuncio Di spade scudo Forse Dei dlc No I dlc Di spade scudo Avevo già reagito Su twitch L'ultima live Su youtube Credo che sia stata Per i dlc Secondo me Per l'annuncio Dei dlc O per l'annuncio Di unite Ho giocato L'armatura Su youtube Ah Allora L'ultima è stata L'armatura Quindi è stato Giugno 2020 Quindi no Dai in realtà Due annette Sono due annette Che non streamo Su Su youtube E lunedì Ci saremo Prima però Visto che Siamo qui Prima di iniziare Concedetemi Questa cosa qua Allora Io mi rendo conto Che l'orario Per la nuova serie Delle 11 Non è un orario Eccezionale Ok So che Infatti C'è la possibilità Che la soul link La tenga Come VOD Visibile Per tutti Su twitch Anche se non lo so Potrei semplicemente Darle molta priorità Per essere ricaricata Su youtube Visto che facendo Alle 11 Posso tranquillamente Caricare anche Alle 14 Del giorno dopo Detto questo Qualora vi foste persi Qualcosa Di che cosa Sto parlando Sto parlando Di questo Ci vediamo Lunedì 19 settembre 19 settembre Alle ore 11 Faremo dalle 11 Alle 14 Quindi Se ad esempio Uscite da scuola Potete connettervi Gli ultimi momenti E poi ovviamente La live sarà recuperabile Sicuramente Su creepy live Vediamo anche su twitch Mi devo gestire Ragazzi Mi dispiace Se l'orario È alle 11 E non è Eccezionale Per chi Va a scuola O per chi Lavora La mattina Purtroppo Ago Ha degli orari Che deve rispettare Per il suo lavoro Anche lui E quindi Questo è l'orario In cui abbiamo Potuto trovare la serie Anche per inserirla Mi sposto un po' di qua Anche per inserirla Prima Di scarlato e violetto Perché altrimenti Sta roba qua Non si faceva più La serie ha un concept Molto bello Secondo me È ovviamente La soul in conformat Che voi conoscete Perché l'ho portata Per anni Ha un concept Molto bello La serie Perché Matteo Agostini Questa è una colpa Che gli faremo pesare Ovviamente Non ha mai giocato A pocavo nero e bianco Perché ovviamente Il fatto che si chiami Kaizo soul in Che implica Che ci saranno Un paio di regolette In più Che renderanno il tutto Molto più complesso Ma quelle ve le farò sapere Durante la stream E appena prima Con un video su youtube Molto probabilmente Insomma È un concept figo Sarà Una cosa a metà Tra una serie Tra yard Molto tecnica Come io e Agostini Abbiamo fatte per tempo E anche un qualcosa Che mirerà A valorizzare La narrazione Di pocavo nero e bianco Perché Proprio perché Aggo Non ha mai giocato Questi giochi In un certo senso Mi proporrò Un po' come una guida Ok Nei suoi confronti Mi proporrò Come una guida In termini di narrazione Gli farò notare Alcune cose Gli farò fare Determinate Cose all'interno del gioco Che reputo Molto importanti E gli farò Lo farò Anche volendo Ragionare sulla trama Quindi La serie vuole essere Poi ragazzi Voglio dire Io posso Sono fallibile Quindi magari Non sarà così Ma la serie Mira ad essere Un Un'unione Dell'aspetto Di difficoltà Quindi con Le regole Dell'hardcore Nuzloc E con altre regolette Che tanto regolette Non sono Ciao Frank Benvenuto E L'esplorazione Della lore Quindi La vedo Come Un'unione Di due anime Del canale Che esistono Coesistono Che sono L'interesse Per la narrazione Pokemon E l'interesse Per il game Per l'aspetto Un po' più 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 tecnico Ecco del gioco Detto questo Azienda Allora Non accetto Critiche nel momento In cui berrò Questa monster Per un semplice fatto Se bevo questa monster C'è un motivo specifico Non ho acqua in casa L'ho finita oggi a pranzo Sono molto contento Della serie So che purtroppo È Un orario Che per alcuni È proibitivo Però potete tranquillamente Recuperarla E ve la straconsiglio Perché secondo me Sarà qualcosa di figo Detto questo Lotta 1 È cambiato il counter Sì ragazzi Finita la live Vado a comprare l'acqua Non mi sono accorto Che era finita E l'ho tirato Tranquilli Non muoio di sede L'acqua di rubire Non è potabile La Bologna Sì volendo sì Però sta di merda Ok è cambiato Perfetto Volendo sì ma sta di Ma dai ma veramente Vabbè direi che Startiamo con me Senti ma Quest'aria condizionata Perché fa così cagare Tra Puoi gentilmente Sgravare Non so però mai In Nasroth Chi è meglio tra Frank Grazie per 10 abbonamenti regalati Mi sono entrati nello schermo Mentre stavo leggendo un messaggio Grazie per le 427 abbonamenti regalati Al canale Le hai viste l'altra volta Le tue box di carte Ce le ho ancora qui Sto aspettando di Di muovermi Per prendere lo studio Con calma Grazie mille per le 10 sub Chi è meglio in Nasroth Tra me è Ago Ago ha oggettivamente Più visione delle cose Ago ha più Ah però Però Ago ragazzi È un giocatore competitivo Ha molta più esperienza di me In termini competitivi Quando è entrato Nel mindset Delle regole Della Nasroth Poi Sono anche un po' Un risultatista Quindi Su queste cose tecniche Per lo meno Ha Più titoli di me In Nasroth Quindi è Automaticamente più forte Da quel punto di vista Raga Metagross Dai Startiamo con me Tanto è il primo try Io direi che Metagross è fondamentale Metagross soffre Terra E fuoco Giusto Io farei Arcane non è Fammi vedere i set Perdonami Ok Sta roba mai nella vita Ehm Non è terribile Questo fuoco ardore No sveglia lampo Se no non era male Beh allora Io Arcane Intimidate Lo prenderei Resto un po' Scoperto sul tipo Terra Facciamo Whizzing Che è immune No non soffre Dark in questa Gen ragazzi Allora Offensivamente Forse No ma no Non soffre Dark in questa Gen Direi Whizzing Con levitate Traga Onestamente Tra tutti questi Mi sembra Mi sembra anche Un bel team Questo Onestamente Ehm Ti pare che puntualmente Non becavo il tipo Terra Easy Vabbè ok Brutto colpa Ma tipa Ma si Vabbè Vabbè Non dirò Il counter Perfetto Il counter Ti giuro Perfetto Mai visto Un counter Del genere Se ti metto Uno schermo luce Lui fa riposo Ok va bene Facciata Maledizione Switch Sotto schermo luce Switchiamo Sui Bella giocata Ok Mettigli il fuoco Fatuo Perfetto Mettigli anche il muro Di fumo Guarda Giochiamo così Merda Riposo E certo Chi ci ha pensato Chi ci ha pensato Ai bambini Bello Socretto Parca Troia Doppio Triplo drop Della difesa speciale Fa sempre piacere Quando sei un attaccante fisico Ehm Niente ragazzi Gli faccio finire a riposo Gli facciamo finire a riposo E poi Easy Qua ho paura di contatore Onestamente Io me ne sto buono Ehm Dovrebbe averne giocati Tipo una cosa come 5 No? Fangobomba fa meno di palla ombra Sì Bombardolo di muro di fumo E poi si sgronchi Speciale Eh allora Insomma Non lo so Ehm Sta spavando riposo A caso Lui Interessante Sta cosa Ah Gli ho droppato La difesa speciale In effetti Quindi tu mi stai dicendo Che se io tipo Arcanine aveva sgranocchio No? Forse potrebbe funzionare Rientra di Whizzing No Quel terremoto Li fa È troppo problematico Ragazzi Poi faccio sempre così Più che altro Per droppargli L'attacco fisico E poi gli entro Oh sì In maniera innocua Qua Matteo Grazie per il Prime Benvenuto Matteo Sottolineatura Borelli Ha rinnovato L'abbonamento Per quattro mesi Ok Palla ombra Bello sto credito GG dai Hai una garanzia Per il mio Prime Per il mio Prime Grazie mille Per la sub Bello Benvenuto Vai GG Porca troia Vabbè Piliamo Swampert Su Whizzing Tipo volante Va bene Prenderai Easy Swampert Guarda che team Che abbiamo Cristo Dio Ma pensa a te Sarà un team Devastante ragazzi Un team Buono per altri try Secondo me Ok va bene Ok questo qua invece Qua dobbiamo scambiare Qualcuno Mi sembrano Tutti un filo Più marci Onestamente Scusatemi Qua non ho aumentato Il counter Qua siamo a lotta Direi tre Ok Ok chi sbattiamo fuori No non è obbligatorio Scambiare Però è È conveniente Direi Arcanine Comunque È conveniente Allora gli scambi Ve li spiego In teoria L'azienda registra Gli scambi E questo ti porta Dei vantaggi Nel pool di Pokémon Andando avanti Cioè Quando arriveremo A A Lotta 22 Potrebbe rinirci fuori Più forti Del dovuto È per questo Che ha molto senso Comunque fuori Arcanine E dentro Direi Tanto abbiamo Swampert Che incassa benino Più o meno tutto Altaria Che è un Levitate Dentro Altaria Che è un Levitate Bello questo Devi subito Tirargli la merda Perché altrimenti Alla fine Minchia Ok bravo Metacross Flygon Eccolo qua Al terra Qua lui è sicuramente Più veloce di me E il problema È che lui Non ha mosse Per colpire Ok facciata Stavo pensando Anch'io Di saccare Però Eccola Oh no Fallito E lui ha fatto Terremoto Su Altaria Che vabbè Credo che fosse Ero assalto Credo che fosse Beh dentro Flygon Su Altaria Ovviamente Credo che fosse Bright Powder No Per forza No no Sì sicuramente Era Bright Powder Vabbè Pidialo E comunque Flygon Su Altaria È uno scambio Veramente Normale Bright Power Terremoto Terremoto C'è vabbè L'acciaio Finta Facciata Vabbè Non è nemmeno Ingiocabile Onestamente Metti uno Schermo Luce Qua Ed entra Diswampert Non ci credo Che avevi Breccia Ma dai Ma vai Affanculo Sì Oh sì Oh sì Vabbè ragazzi Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Grazie mille Per la sub Non ho visto Chi sei però Jamil Grazie per il Prime Benvenuto Va bene Va bene Va bene Slowking Breccia Me lo ricorderò Finché non morirò Io qua Sincero Saccherai Swampert Che poi Non è neanche Detto Infatti Vai Bravo Tira dritto Tira dritto Alla peggio Muori ed entra Flygon Dai Lotta 5 Sempre fuori Flygon Qui non abbiamo Grandi call Sui terremoto Però Swampert È troppo utile Io qua Butterei Dentro Tra tutti Slowking Incassa Comunque bene Difensivo Ancora Vai Questo è buildato Diversamente O prendo io I roll Dei puff Buono così Ok va bene Ok va bene Mi lascio Mi lascio Trombare così Se proprio Poi entro con un altro Perfetto Era vinta Sti cazzi Fuori Slowking E dentro A sto punto Per sistemare I terremoto Beh Dodrio È un bel pokemon Però anche Sto schermore Non è male Mi piace Sto schermore Se è lo schermore Che intendo io È buono Non è lo schermore Che intendo io Va bene Lo stesso Qua su di lui Siamo tranquilli Ok Questo si inizia A fare doppio team Si becca E l'assalto Quindi è una buona cosa Metagross Ti prego Bravo Ole Passiamo a più Uno se vuole Lo sciottiamo L'8 a 7 Fuori schermore Dentro È Gengar Anche se quel Gengar lì È terribile Oddio no Umbra non è più forte Umbra non è molto più forte Vabbè Uh Ecco Puntuale come un orologio svizzero Suppongo Una voglia di rimanere in campo Ragazzi Tirare il meteo al pugno Che non avete idea Vedi che faccio bene Vaffanculo Facciata Tuo mondo Vabbè ok Tanto penso che tu non mi faccia Vabbè Oh cazzo Sto cazzo Di Snorlax È ovunque Oh Conto sul fatto Che dietro C'ho finta Quindi se anche Metagross Dovresti avere problemi Perfetto L'88 Vai Metagross ha carriato Però vabbè Metagross Che cazzo gli devi dire Penso che sia il Pokemon Carrier Per definizione Tipo acqua Il primo allenatore Ma il primo allenatore Ce ne freghiamo Volete fare una bet Bettiamo se ce la faccio Entro oggi A fare l'azienda Considerato che sono Una live Direi di Tre orette Massimo Allora Questo è un po' Una merda Ma questo Sai Regge anche Di Però Mamma mia No Le Fable Bandana Meteor Pugno Cosmo Forza Sono qui Doppio Night E il sonda calda Aggron Aggron Picchia L'ultimo Mi sembrava Il più simpatico Noi lo conosciamo Bene Sto robo Senti Io farei Shizor E lo coprirei Con Nine days Fuoco Ardore Con Dugong Tickfet Che però Non ha Mosse Fuoco E Buongiorno Non ha Mosse Acqua E Nine days Non ha Però Nine days Sai Se non ha Corpo Scontro Ho capito Che Dugong Fa pena Ragazzi Non sembra Che ci sono Tante soluzioni Migliori Vai C'è la bet Signori Se volete Votare È arrivato Il momento Per farlo Io vorrei Aumentare Il potere Di quest'aria Condizionata Cioè davvero Ti prego Funziona Di più Ma guarda Io porterei Nine days Se non altro Perché se mi Becca la Mossa Fuoco L'audio Rivertato Rispetto al video Refresciate la pagina È un problema Di twitch Se non altro Mi potenzia Le mosse Qua Cioè Se entro Di Dugong Con Bora Ninetales È un po' Più Forte Io farei Shizor Ninetales Agron Allora Il tipo Terra Ci annichilisce Fondamentalmente Ok Però c'è che Alternative Hai Minchia Il primo È di tipo Acqua Allora No Aspetta Senti Blisse Blisse Le mosse Sono speciale Cerchiamo di Incassare Bene Qua abbiamo Anche uno Schermo Luce Che non è Male Ok Speriamo Speriamo che Shizor Ci carri Un pochino Fantastico Però sono un idiota Giovanni C'è Torrent Qua corpo Scontro Ah Miau Speed Ma che Cazzo È Rapida Artigli Sicuro Breach Vabbè Sì Tutto C'è Sto Cosa Ok Ma vedete Se devo puntare A Blisse Dai Blisse Che la Recuperi Porca Troia L'ha Recuperata Veramente L'ha Ripresa Davvero Fra Lotta 2 Tipo Coleottero Vabbè Senti Tipo Coleottero Io mi aspetto Heragross Però I po' Con Coleottero Che puoi giocare All'azienda Sono 3 Sono comunque Pochissimi Heragross Schizor Qua Penso di aver bisogno Di Ninetales Come il pane Schizor È buono Perché li Walla Dobbiamo Dire Dio a Blisse Che ha fatto Un lavoro Incredibile Mi spiace Dirlo Shackle Volendo Vabbè Su Shackle Abbiamo Schizor All'acciaio Va benissimo Se arriva Lui Possiamo Setappare Mi spiace Ma Raga Dobbiamo Aspettate Sto cercando Di far funzionare Questa merda Io farei Loggia P2 Su Blissei Onestamente Anche se Feraligator Ci copre Ci copre Bene Il tipo Fuoco Contro Qui Schizor Potrebbe Essere Debole Loggia P2 O Feraligator Tentacle Oddio Anche Tentacle Però Tentacle Tossina Surf Non era Neanche un Brutto Set Tentacle Ferali Sesso P2 O Tentacle Delia Demon Srobo Che ha Fatto Surf Dragarti Dai Sembra Carino Ok Io Penso Di essere Safe A tirarti Un danza Spada Davanti E poi A spammarti All'acciaio No Bravo Schizor 6 Oh Qua Gli tiro 20 Argentio Se mi fa Contatore Scialla Muoio Mi sono Boostato Ma figurati Porco Due Una volta Che mi Boosto Una Entra di Fralisesso Surf Muori Ok Perfetto Ho dimenticato Che potesse essere Forretress Il Simpaticone Spammo Traguardi Oh No Sai che Faccio Ultimo Canto Perfetto Hai perso Complimenti Spammo Viso Trugge Per la Gag GG Lotta 9 Scusatemi No Lotta A quanto Siamo Lotta 10 Ok Sì È giusto Ok Qua Tenderei A far Prendere Il volo A Ninetales A sto Punto Non mi Serve Più Schizor E Coperto Benino Si coprono Si coprono Molto bene Schizor E Feraligator Ah Io qui Toglierei Ninetales E metterei Un Armaldo Che Sappiamo Come Gioca Prendiamo Armando Diaz Vai Raichu Versus Schizor Va bene Sto neanche A boostarmi Un targento Bello Ok Bello Che carrier Che è anche Schizor Se gli metti Di fianco Se lo metti In condizione Anche sto Poco Tira Delle Booste È importante Che difficile Toccarlo Se è una mossa Fuoco Probabilmente Quando mi Troverò Davanti Gente Tipo Salamence Inizierò A andare Nel Panico Armando Diaz Via Dentro Espion Farei Espion È forte Qua Vai di Pura Forza Ecco Contro Marowak Ho un'ottima Difesa Fisica Ce l'ho Anch'io Qua Se switcho Dentro Fragli Gator Ho paura Di Venire Distrutto Eh Cazzo È finito È più Veloce Di Ma Fagli Danno Per Favore Va bene Ok Qua muoio D'accordo Era un prezzo Da pagare Brutto colpo Credo Inutile Qua sono sicuro Cazzo Ma c'ho Feraligator Lentissimo Ma Pensa te Era davvero Rapido Artigli Prima Eh no Devo andare Di Espen Allora Ok Giù Kangas Diokan Bello Regia No Ti prego Ti prego Fragli Gator Ok Chi è l'ultimo Non posso Crederci M Oh E' Feb 42 Bortolo Che poi Bortolotti Scusami Daniele Facciamo semplice E' sempre detto che Meganium E' lo starter più forte di Yoto E' il migliore in assoluto Speravo che quel danza spada bastasse Per buttare giù Cosom E Marowak c'è un po' Marowak è davvero forte E' forte E poi Porca troia Kangaskhan can give me one shot a Espeon Ma sorpreso Va bene Sto ludicolo non è terribile Questa statua è terribile Golem direi di no Questo è Aerodactyl Drago Spiro Attacco speciale 100 Queen Senti Io farei Vaporeon Eh si Vaporeon Aerodactyl Ludicolo La scelta è migliore Qua lo dico Lo copre benino Vaporeon Aerodactyl Può fare un po' Un po' di dannetti Sì Non dei grandi Pocamon qua Oh Gesù Cristo L'incubo più grande Io non penso che mi Senti Alla page Faccio morire Vaporeon Ok vedi che non muore Vale la pena stare in campo Surf morso Morso 100 Surf conviene Burnato Crit Va bene Non mi lamenterò Attacco rapido per il meme Un altro crit inutile D'accordo Gigi Prossimo E chi fai volare Guarda però E' chiaro che vai a prendere Aeracross A prescindere Aeracross Aeracross lo copre benino Vaporeon eh Io farei Aeracross per Ludicolo In realtà Aeracross copre Benino Minchia Eh sì È un Aeracross Un po' così Lui ci prova Tuo Nonda Scusa Mi chiedete Ma vapore Ma che fucilata Che gli ha tirato Acqua magica Ok No 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 porco due No Muori Ma basta Ste cazzo di bandane Dodrio Vabbè mi lascio ammazzare Qua Vabbè Vaporeon Vabbè 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 Vaporeon Il vero Pokémon del sesso Complimenti Prossimo Alakazamra Eh io qua Però Faccio scoppiare Leodactyl Per Alakazamra Ragazzi Ah certo Ovvio Dopo tutto Perché no Per quanto Non abbia Stab Ma sto cosa È molto Tutile Senti Beh Oh cazzo Vabbè Vabbè Ok No Snorlax Dai ragazzi Ma Voglio Il signore Ma non è possibile Adesso Snorlax Come lo butto giù Mi spieghi Come lo butto giù Adesso Snorlax Oh Vaporeon Ma come fai ad essere così Facciata Più Tè Porco Dio Fai ripartire Sta merda Perché Facciata Con Mamma mia Che brutta Cosa Che ho appena visto Che brutta Partita Che ho giocato Dai Dimentica Questo try Ma Dimenticalo Proprio Non è Questo try Non esiste Ok Vaporeon Jolt Mi state Miamando Allora Cioè mi ha ridato Ludicolo Vaporeon Però mi ci ha messo Il Joltion Di prima Vabbè Joltion Tra l'altro Se noti C'ha un sacco Di coverage Che abilità Assorbi Volta Non è male In combo Con Vaporeon 1 2 E poi Gli metterei Qualcuno Che sappia gestire Guarda che bella Cosa Mi piacciono Molto Loro Fantastico A nostro Modo Cioè sì Ma non Non possono Essere Dei Counter Sembra Cioè Reggilo Vaporeon Mi raccomando Bravo Ok Vaporeon E' un mostro Vaporeon E' un mostro Ragazzi E' un animale Tipo volante Dentro Vai Oddio Swampert No però Swampert Su Vaporeon Ma non è che mi piace molto Quello Swampert Onestamente No fai Vai Il plume Su di lui Che incasta bene Il tipo Erba E puntiamo E puntiamo un po' Su Vaporeon Che mi sembra Che Framma C'era Il sole Ma come fa A fare tutti Sti danni Me lo spieghi C'è il cazzo Di sole Il sole La quasi One show Porca puttana Che fucilate Che tira E mo chi levo io E vai Plume Per reggere Il tipo Erba E ci metti Dentro C'è Arizard No Umbreon E questo potrebbe Essere fastidioso Si ma tanto Se ho capito bene Questa No bright powder E ma tanto Frate C'è Finita Qua mi è arrivato Intimidate Quindi in realtà Lui mo mi farà Un danno E io non me ne libero Più Eh prenditi un facciata Tira surf Attacco rapido Qui non bastava mai Vai C'è Arizard Ero assalto Assolutamente no Però abbiamo boato Volendo La situazione diventa strana Ok no Perfetto Don fan Ok mi faccio ammazzare Letteralmente Mi faccio ammazzare Oddio no In realtà Guarda Guarda Arizard Letteralmente Mi faccio ammazzare Anzi no Un film Ok Vapore Un giolto Un charizard Loro hanno Un gron Taurus Don fan Io qua switcho Giolto E ne metto Don fan Mi tiene il tipo Elettro Bene E lo scambio Più safe da fare Tanto qua ho capito Come funziona Qua è shottato Credo che fosse un crit Coso Perfetto E che problema c'è Muori Aggron Ciao Lotta 5 Tipo acqua lui Arcanino Su Charizard Allora Un bel morso Ho anche miscliccato Sono curioso Sotto acqua quanto faccio Non è un danno accettabile Di U-Kong Questo di surf Comunque Ve lo dico Non è un danno accettabile Guarda che se li fa tutti Sì Tipo fuoco Eh qua ho da faccia Però Qua sarebbe Sarebbe da pisciare Vapore In honor del vero Vabbè dai Sta per finire la streak Possiamo permettercelo Grazie Vaporwave Quasi imbarazzante A parte che anche Questo è uno scherzo Porca troia Ok Un po' ci speravo Ora che io lo so Che lui sta spammando Didens Però è extra rapido Qua vero Yes Speravo di mandarlo in range Uh Ok Magmario dromedario E' l'ultimo vero Sì perché è entrato Gyarados Quindi io qua rimango Un po' in campo A stare tranquillo Barriera Va bene Bravo Arkham E qui Quel Gyarados lì Non è che mi Uh uh No Quel Gyarados Non è che mi convinca Molto eh Però in realtà Regge molto Io qua farei Gyarados Su Slowbro E' un Intimidate Merda Bacca prugna God Dragodanza Ora dormo Su una più due Frustrazione Stai scherzando Ma quanto ha retto Frustralo Frustralo Ma tantissimo Devi frustrarlo Bravo Gyarados Ok qua Switch Arcanine Flamethrower Burn Extra rapido GG Guard war traccia Ma preso Intimidate Tanto non me la tira addosso Hypnosi Dietro cos'ho per gestir Ok bravo Ok bravo Arcan Fa un po' di dannetti Bravo 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 Rimani morto E ora credo che Anche se ha poca difesa speciale Donphan sia in range Per sopravvivere Doppio miss d'ipnosi Si gode Lotta 8 D'accordo E vedi sgranocchio Su chi? Su Donphan Comunque avrebbe fatto di più terremoto Sgranocchio speciale Quasi sicuro Sì no sicuro avrebbe fatto di più terremoto Non c'è dubbio Su Arcanine Ah ok no Allora lì ho sbagliato Sì Non me ne sono accorto Scusatemi Per effettivamente è vero Oh wow Che inizio Shids or Salamans Orca Dragon Che merda Però è pur sempre Salamans Ok Va bene Questo è un pagliaccio Ma questo Ci posso stare Io qui però vedo una cosa interessante Cioè vedo Shids or Poi vedo un counter totale al tipo fuoco E potenzialmente anche i tipi di drago Che potrebbero avere la fire Quindi Shids or Wall Rain Eh beh qua non puoi rinunciare a Salamans È un intimidate Eh resta comunque Salamans Sei coperto sul tipo drago Sul tipo ghiaccio Mi sembrano solidi Mi sembrano solidi Jolteon Lo fulmine arriva e un po' di male lo fa Però Shids or In difesa speciale Non si comporta Malissimo Io un vento argente Lo tirerei Doppio calcio Wow Salamans Entra in switching safe Fai una product Per vedere cosa fa lui Ok qua fa fulmine Ok D'accordo Benvenuti all'azienda lotta amici Qua sdoppiatore qua Me lo rischio un po' Salamans Nel senso Lui potrebbe avere una mossa ghiaccio Ma a me interessa il giusto Qua vado a tirare botte Tanto sono In vantaggio Vai lotta 9 Molto bene Eh però ora va subito cambiato qualcosa Allora Secondo me Shids or e Walrein Insieme lavorano molto bene Allora Walrein per tenta Cruel è un'idea C'è da dire che Salamans Poi dopo non è molto Però Dai è sul tipo drago Avremmo uscito Pro Shids or Fire Vabbè Tentacore al dive Sembra rush perfetto Mai visto un tempismo del genere Tentacore al cu- Nooo cazzo Great Lasclops Ah è sgranocchio In realtà Vai Lamberri Godo No non è Lamberri Scusatemi No erano gli avanzi Ho visto male io Dai Salamans Ripigliala Riprendi la Salamans Bravissimi No non è possibile Ciao Kiwi Perché non sai come funziona L'azienda O almeno A quanto pare Sembrerebbe che Switchando sempre i Pokémon Hai più probabilità di pool Migliori all'inizio Quindi è molto utile Più avanti So benissimo Che hanno i V inferiore Ma conviene Sul lungo termine Visto che l'obiettivo È arrivare alla fine Allora Oh bullo Però no Guarda Senti Fagli quel chip damage Shizor lo tiene bene A 20 argente Ok Ti attende la terza lotta Tipo veleno Blasi Andaslops Metagross Beh Metagross Non è male Però poi dopo Sul fire Soffriamo tanto A onor del vero Potremmo far volare Shizor E prenderci Metagross Ma va bene Chivi Però continuo a farlo Così siamo sicuri Visto che io Ho le mie fonti So che è così Direi che va bene Lo stesso Secondo me Shizor Meta Per quanto Shizor Sia bello Lo scambio ideale Sul tipo terra Sul tipo terra I Salamence Puoi gestirtelo Sarebbe utile Cambiare tente Qualcuno tipo acqua Che non abbia debolezza La terra Quello si Però c'è nel mentre Voglio dire Abbiamo un Metagross Dalla nostra Ma che roba Spiegami come può essere Una non scelta Lotta 4 Qua purtroppo Non ho pescato niente Di quello che mi serviva Sarebbe 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 Se non incassa bene Il tipo fuoco Trei Gengar Levitate Minchia Certo che Levare Salamence Ragazzi È un dramma È un intimidate Questa Ok Chievi Poi guarderò Io levarei Salamence E butterei dentro Pori con 2 Pori con 2 Mezza certezza Raga A parte che se ci va bene No no Ancora tu A metà Fai più danni possibili Letteralmente Bravo Bravissimo 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 Lotta 5 Lanturn Marwak Gardevoir Lanturn Lanturn Non è Oddio Non è marcio Lo capiamo ora Vabbè No Pori con 2 Era da far volare Ragazzi Vomito infinito Sciottalo Sciottalo Vabbè Volanturn Sto in campo Finché Fuoco Oh no È quel Geridos Va bene Non so se Hai terremoto Onestamente Ok GG Bene Lotta 6 Qui Geridos Sul Ok Che è un Geridos Di merda Però è la morte Sua come Switchin È un'altra Intimidate Troppo Pumbo Fumina Fuoco Pumbo Bor Va bene Però mi copre Tutte le debolezze Di Meta Gross Alla Perfezione È un Intimidate Qua Io di Meta Vado Dritto Per dritto Ok Un po' Eccessivo Non credo Che abbia Fulmine È vero Solo a raggio Perfetto Adesso ci divertiamo Contropiede Vabbè Salmo È troppo D'attacco Fisico Signori Solo Su questo Canale Potete Vedere Una roba Del genere Ve lo Dico Va bene Flygon Fa una cosa Molto Simile A quella Che fa Garedos Quindi Garedos Per flygon Per quando Non sia Un grandissimo Flygon Questo Va dato Atto Proprio Per nulla Però Senti Qua flygon Su di lui Eh infatti Immaginavo Che fosse Crit ovvio Ma certo Chiaro Proprio palese Che sarebbe successo E non posso neanche mettergli Giorno di sole Perché Ovviamente Gelo pugno Ce l'ha pure Eh porca troia Il pokemon Fatto per Swipparme Ok C'è il pokemon Costruito dai poteri Forti per aprirmi La testa Non c'è un'altra Spiegazione Questo ludicolo qua Non so che ludicolo ha Ok Tuono pugno Mi sa che è quello Con i pugni Però forse Non aveva gelo pugno Se posso entrare Così Ok Sì Bene Bravo Sala Scherma Basta Non possono essere Non possono essere Sempre così Sfigato Ragazzi Qua Potrei fargli Più danno Possibile Bello Credo che fosse Crit Era assolutamente Crit Altro Crit Lui fa Turbine Suppongo E siamo All'otta 15 Buono Dai Dammi roba Buona Per la Lotta 15 Marowak Fuori Trastenta Quella Riam Aductrio Medician Perso Beh questo Non è malvagio C'è C'è solo Un pokémon Buono Tentacruel Marowak E Vorretress Sì ma Muori Però Quando già Inizi a trovarti Contro sta roba Speriamo di leggerne Uno Bene Non lo colpisco Baratto Ragazzi mi sono ridotto a dovergli tirare falce cannone Mamma mia Vai Io esplodo Uh ha misato fuoco bomba Si gode sempre Cambia pokémon Non lo so Leva questo Forretress Leviamo Cosa leviamo Prenderei salamens qua Tentacruel Soffre il tipo terra Soffre il tipo psico Soffre il tipo elettro Io farei Forretress per salamens qua Onestamente Marowak Anichilisce i tipi elettro Non è male Non hanno coverage Quei pokémon O meglio Ce ne hanno raramente Forse l'Ectobats Potrebbe dare problemi Forretress C'è la carta Dell'esplosione Però so Eccala Questa è linea teorica Marowak Dovrebbe tenerselo a Bada Mi fa resistenza E suppongo ora Explosion Ancora resistenza Vabbè Partigiano vero Vabbè che stupido Vai Marowak Vai che bella cosa Marowak quando Dio Gesù Quando Marowak Ingrana E la lotta E la lotta giusta E E la fine Però tanto adesso Mi sa che vola Perché c'è nido Qui Io qua vado a mettere Nido Qui in sincero Su Marowak Grazie Marowak Per quello che hai fatto Ovviamente Va venire fuori lui C'ho le palle Tiro pure specchio Vero Questo lo tengo No Ok bravo Tentacral Ok Blazocryu Facciamo morire Tentacral Lui è stupido Come una pigna Va bene D'accordo Mi lascio ammazzare Ed entriamo di nido Qui in No Quindi merda Frasora Grazie per il Prime Oh si Oh si Frasora ha subbato al canale Vabbè dai Dovrebbe comunque essere Sotto nostro controllo No Ok Lui non ha letteralmente Mosse Lotta 4 Dovrebbe essere La lotta 18 No Abbiamo fatto 15 17 18 Yes Va bene Tipo acqua Ok Perdonami un attimo Io non ho ancora guardato Il mio Salamence Ok Meglio di quell'altro Che abbiamo usato Fino a prima Io qua farei Nidoquin Per Jolteon Ammesso che abbia Assorbivolt E contro i tipi acqua Cica assorbimento Porco No Convinto di shottarlo Fai del resto Jolteon Vabbè Ok Ero convinto Di shottarlo Ragazzi Sarò brutalmente Onesto Con voi Questo cos'è La bacca Salak Mi restiunge Lo raggio Contatore Addirittura Stai che abbiamo perso Oddio Ha fallito Cos'ho Lumi in polvere Prendi e porta a casa Ampile con il poco Di tipo Normale Prendi e porta a casa Subito Swampert Su Tentacruel No Swampert Su Jolteon Qua Ci è andata bene Questo Questo Tentacruel Mi piace molto Ragazzi Sarò molto Sincero Con voi Io conto Di reggere Mr. Mime Ho retto Gengar Se non reggo Questo impazzisco Ok bravo Tentacruel Ursaring Sta la mensa Più veloce Faccio il dannetto E mi levo Oh vabbè Lo reggo Bello Che pagliacci Che sono questi Bello 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 Vai Ciao Lotta 6 Se non sbaglio Tipo fuoco Orco Corriano loro Mr. Mime Mursaring Minchia Prendere uno di questi Ti viene il Magonam Tentacruel Soffre Elettro Abbiamo Swampert Psycho Psychic E Terra Però tiene bene Psychic Abbiamo visto che Io guarda Farei quasi quasi Granbull Per Salamence E non altro Per l'Intimidate Che ne dite Vi attizza Questa idea Secondo me Potrebbe funzionare Carino lui Molto meglio Degli altri Granbull Senti un attimo Giga assorbimento Staffetta Blazica Bene Surf Giga assorbimento Cosa ho fatto Scudo acido Sì per favore Bello Regalata questa Ok Vaporeon Ho un Dumblazica Merda Potremmo far volare Tenta Quelle prendere Vaporeon Cosa ci ha fatto Vaporeon Però scudo acido Staffetta Scudo acido Staffetta Non è che mi abbia fatto impazzire Il suo setta Ho un Doom Mi counter al tipo Psico Molto bene Siamo un po' In difficoltà Sul tipo Terra A onore del vero Il tipo Terra Gli tiriamo un Surf E realisticamente Lo buttiamo giù Quindi in realtà Il tipo Terra Abbiamo delle Cole Anche Swampert Come messo Faccio Oundum Per Granbull Raga Eccoci Un inizio Sorprendente Bellino Allora Senti un attimo 2-5-6 Di speed Ce la giochiamo Sul Sul Sulle V qua Però se entro Di Swampert Secondo me Porca troia Ti tengo benissimo Anche se Attacchi specialmente E poi ti arriva Il geloraggio Da Swampert Sono più tranquillo Qua se arriva Terremoto Su di lui Schioppo Però se arriva Su di lui Lo tengo benino Ma tanto Giocano a caso Muori Swampert Easy Pioggia danza Oh no Questo qua è il set Pioggia danza Tuono Mamma mia Dai Swampert Ce la fai prima o poi Bravo Mi lascio ammazzare Se serve Fangobomba Perché sei stupido Lotta 21 Ciao ragazzi Sulla raggia L'avevo messo in conto Switchavo su Su Oundum Tipo normale Lapras Almas Medicham Schermo di Tendro Del Geridos Hola Stai scelta Mi piace molto Tipo normale Ha detto Minchia I normali Sono fastidiosi Sì scusatemi Lotta 22 Non è Lotta 21 Lotta 21 È l'ultima che abbiamo fatto Avete ragione Sbagliato Si inizia a ragionare Questo raga direi di no Tutto al bene del mondo Oh per carità C'ha 400 Di attacco fisico No Questo schermuri Guardate bene Non è bruttissimo Questo tentacle Non è brutto Però quel fango bombo Al posto di Giga Drain È veramente Terribile Buildato in attacco fisico Questo non mi piace proprio Porca troia Che ne va a giocare Sti bamboni Allora si Costruirei intorno a Salamence Anch'io Allora Mi viene un po' Da piangere Non portare questo Geridos Sarò Sarò molto onesto Che strumento ha Salamence Blume in polvere Però c'è un problema Ragazzi Non abbiamo Call control Tipo elettro Cioè Secondo me Ci esponiamo troppo Perché Salamence È molto buono È debole Fondamentalmente È ghiaccio E drago Cose Che schermuri Ti Tiene benino Anche quella frana lì Non è male Però se porto schermuri Poi mi espongo Un po' troppo Al tipo elettro E Geridos Soffre tanto L'Apras Non ha senso portarlo Mediciam Non è resistente Non può essere una chiamata Contro il tipo elettro Tentacole Nemmeno Qua Geridos Mi rosico A non portarmelo dietro Però raga Davvero Secondo me Cioè Se becchiamo un tipo elettro Rischiamo La debacle Io farei Sincero Salamence Schermuri Va bene che Salamence A terremoto Eh Possiamo anche Prenderci Il rischio Il prossimo Tanto è tutto Tipo normale Poi Geridos Sarebbe una Col per il tipo Ghiaccio e drago Più o meno Sì Io comunque Schermuri Lo porterai Ah Siamo scoperti Sul tipo ghiaccio Vero è che Sul tipo elettro Vero è che Abbiamo terremoto Nel caso Ce la bruciamo Così Ok Qua lui ha Meno uno Schermuri Dovrebbe mangiargli In testa No Non ci posso Credere Cioè Cos'ho appena Visto Un Tauros Che mi surfa Nel cervello Allora Senti Ok Sbadiglio Bene perché Posso switchare Perché tu Araciondoli E io Ho un po' Paura Di sto coso Qua Onestamente Tanto Ho doppia Intimidator Soprattutto Ho doppia Didance Per poi Tirare La mossa Più forte Che ho Direi Chi fa Più danno Tra E soprattutto Chi è più Veloce Perché Lui potrebbe Essere Matti Salamence Lui ciondola Lui ora Sta a meno Uno Io un Didance Potrei tirarlo Bello Bravo Tagliaccio Vai Dietro Geridos Frustrazioni Qua sono A più uno Chiudo gli occhi E lo distruggo Lotto 23 E signori Avremmo anche trovata La risposta Al tipo Elettro Per Geridos Ma così Facendo Esponi Salamence Togliendo Schermore Esponi Salamence A ghiaccio E drago Ghiaccio Però in realtà Geridos È un Pokémon Che Buona difesa Speciale Te lo tiene bene Riposo Tipo Drago Idem Io farei Fuori schermo Lì dentro Flygon Flygon e Geridos Sono molto Sinergici Tra di loro Eccoci Che danno Più Più veloce Ok Però Bella speed Explode Mi ha insegnato Che può tirare Tantissime mossa Quindi Io Gli vado a tirare Terremoto Per sicurezza Per Dargli un po' Di fastidio Io qua mi auguro Di essere più veloce Di un Explode Con Salamence Erba chiara Quindi avrà Pampata Giù Kangas Di Ocanna Io lo intimidisco Con Geridos Qua arriva Riposo E lo gestiamo Mal che vado Abbiamo dietro Salamence 24 Allora Secondo me Stiamo oltre Le streak Possiamo Se proprio Ci convi Roccia Ho visto Io a sto punto Smetto di cambiare Ho già farmato Secondo me Abbastanza Inizio a puntare Al massimo Qua Raga Questo trio qua Non cambierei nulla Sarò Sarò sincero Allora Ho una per quattro Al ghiaccio Quella È una verità Fattuale Però io qui Non cambierei Mi trovate d'accordo? Sapevo Almeno fino Alla 28 Ah sì? Però non lo so Stiamo a un punteggio Molto alto Io Non brucierei Sta streak Mi Mi prendo Un po' Questo rischio Per le streak Dopo Però qua Si è messi bene Senti Shackle Immagino Tossiena No? Ok Bene Bene Dai che riesci a tirare una Merda Sì ma è inutile sta roba Porco due Prossimo Lotta quattro Cos'erano? Aerodactyl Tengo questi Ok Granbull Salmon Dovrebbe essere tranquillo Penso posso tirare anche un Didance Ah però mi ha fatto intimide Lui Non sono stato proprio furbo Ho fatto un po' Una misplay Ero assalto Bello No crit Ok Giù Gaios No Ok Benissimo Didance Didance Riposo Che bello che arrivano Ragazzi con riposo Beh dai ho fatto però più due di Didance Ok Temevo la bandana Lotta cinque Cos'è che avevano loro? Gremul Blastoise Ala Stiamo così Ghiacciolino E qua si inizia a spammare puro gelo ragazzi Porco diaz che botta Didance Non ci credo mai No No Bright Powder Puro gelo Porco Dio No No raga Bright Powder Puro gelo No Ma no Bright Powder Puro gelo Ma no Bright Powder Ma ho missato di nuovo Ma no Bright Powder Puro gelo Ma vai che la vincevo eh No Non so se la vincevo Ma la gestivo Avevo un turno in più Si faceva Flygon aveva terremoto stab Lo inchiulava Ad armando di merda Porca troia Fallito di un Walrein Ma dai Ma veramente Mamma mia Eh ma quando ti trovi contro Walrein Ragazzi L'altro giorno ho visto uno short Diago Veniva distrutto da puro gelo E abisso Dello stesso Pokémon Raca puttana Vaffanculo Era una grande streak Questa Dai riparte Lotto a uno Eeeh Ci voglio andare un po' spediti Va Gioca delle combo base Whiskash Poi sei debole al tipo erba Ti porti dietro Chiaramente nessuno Perché non ci sono Pokémon buoni Contro il tipo erba Eeeh Fai Saptail Aero Assalto Vai Aero Assalto E Ursaring Qui scacci senza mossa Wow Vabbè Resto un po' in ca' Ok Vorrei un commento Dalla chat Se è possibile Come l'avete Come la Non lo so Come l'avete vista Sta battaglia Vi è piaciuta? L'avete trovata Come? Come? Ditemi un po' voi Se secondo voi ci stavo Oppure no Whiskash Tipo erba Avevamo Ninetales Dai giocati La core Fuoco Acqua Erba Che è sempre buona Bello Ampharos Schioppa Snorlax Resto in campo Vai Bello Donphan Aspetto che Entri Sceptile Letteralmente E' bene Perfetto Ok Cos'è Lui Ampharos Snorlax Donphan Bello Snorlax Su Sceptile Direi Se no Donphan Per Donphan Per Whiskash Butta L'ha incacciata Sul serio Qua Poi abbiamo Ninetales Dietro Forza Antica Forza Antica Forza Antica Jinx Poi dietro L'abbiamo Ninetales Qua resto In capo Perché Godo Ok E qui Merda Lui Però Allora Qui te la giochi Così Cerca Cercamo Di Clacciarlo Un po' Con Ninetales Bello Lotta Quattro Psico Lui cosa aveva Mi era Cosa Blazican Via Ninetales Dentro Blazican Sto andando Un po' A sentimento Ragazzi Che poi Le prime Streak Mi sembrano Molto Molto Abbordabili Onestamente Ovviamente Qua Attrazione È quello Che è E quindi Venom Qua è chiaro Che se ti switch Su Blazican Lo spam Di attrazione Totalmente Gratuito Individuo Fendi Foglia Lui Era boostato Però Secondo me In un modo Nell'altro Oh Bravo Sceptile Parasisteme Staffetta Oh Gli ha passato Anche il parasisteme Bravo Parasisteme Talcio in buono Simpatico Simpatico Sceptile Quanti Devi fare 42 Ragazzi Per il simbolo Oro Slow King Ma di Jamstar Starmi 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 È sempre Buono Pensando Alle coverage Che ho qui Io farei Una cosa strana Starmi Per Donovan Ecco si Questo Starmi Starmi È buono Ma non Questo Starmi Gioco Poco Gratini Migliore Nero e Bianco Per un fattore Personale In realtà Poi forse È il gioco Migliore In termini Assoluti Per Tutto quello Che ha dato A Pokémon Ma forse È un Heart Gold Però La storia Di nero e bianco Tanta roba Anche Smeraldo Un gioco Che ha dato Tanto Cosa abbiamo Milotic Vai Milotic Su Starmi Settai Dovrebbe essere Ciabattina Perfetto Electro Dio Ora Sistemino Te lo tiro Vabbè Ma non Non fai Ma era Un pagliaccio Sto Poco Bello Complimenti Ovviamente Mai visto Un Pocon Così Stupido Lotta Sette Volante Io direi Io qua La butto Per il Meme Vabbè No dai Non prendo Whiskash Di Swampert Farebbe Farebbe Ridere Nella mia testa Faceva ridere Iniziare Finire Con Whiskash Perfetto Frate Contatore Dai Prima o poi Mi attacchi Era un crit Vero Non puoi Menni Faduto Sto danno Non lo posso Accettare Qua nel caso Mi lascio Ammazzare Ma tanto Lui è Stupido Salamence Dove Vedere Come gestirlo Proverò A tirare A riposo Parassisteme Bot in testa Tienilo Mi raccomando Settai Bravo Individuo Oh ragazzi Ma sapete Che Settai È il mio Padre Io un po' Meno Wow Easy Hai vinto Ma si va bene Lo individuo Ah e poi è giusto C'è il parassisteme Avevamo No Avevamo Il trio Di starter Non me ne sono Accorto Avevamo Swampert Bluntziken Sceptile Come ho fatto A non accorso Qua è perché Spidavo Cazzo È vero Memi totale Memi totale Vai Lotta 8 Dammi un po' Di roba utile Era Crossgrade Nidoking Clay Lossary Bluntziken Questo non è male Guarda com'è veloce Questo non è male Se gli vai a dare Un Una coverage Buona Al tipo volante Anche un'onesta Difesa speciale Vuol dire che Ti reggerebbe Anche il fuoco Sta roba Però grandi Col sul volante Non è che tu ne abbia Sonido King Non è terribile Crede gli è buono Con un altro set Allora senti Heracross Debolezza di Heracross Volante Psico Lotta Eh scusatemi Volante Psico Fuoco Non lotta Basta Ok Sul volante Credo che Credili sia Sì ma Folletto Non esiste In stagione Ragazzi Dai forza Credili Credo che sia Una soluzione Anche per il fuoco Volendo Quindi poi potremmo Concentrarci Sullo psico Mi verrebbe Da dire Claydol Che è anche Buono Un po' ovunque Fanno un po' schifo Però forse Stanno benino Assieme Senti Gran fisico Terremoto Terremoto Ecco Qua arriverà La fuoco Immagino No Heracross Ha una buona Difesa speciale E a onor del vero Anche dei discreti Ps Io non so Se lui mi butta giù Di certo Non si fa giorno Di sola E qua sono a più Uno Non si butta via Niente Ragazzi Lotta 9 Guarda Io qua farei Onestamente Fuori Claydol Dentro Quego Questo è sempre Stai fiterando Dave Assolutamente Sì ragazzi Potrebbe arrivare Nel fuoco Pugno Il gran fisico Anche lui Va bene Ma io ho Il type advantage Quindi Salvo crit O salvo riposo Oh però Ora lui dorme Mi da Ago Grazie per il ride Benvenuti Oh porco Scusate Scusate Amici del ride Benvenuti Stavo appena Allora Ho detto Ho detto All type advantage Se lui non Critta È GG Avete raidato Ha crittato E vi ho bestemmiato In faccia Benvenuti Siamo all'azienda Siamo all'azienda Lotta Di No ma che Quagsiree Ragazzi Ma perché Non ho controllato Siamo all'azienda Lotta Di pokemon Smeraldo Eh vabbè Guarda Ti faccio Psicami su Ti copio Il busto Delle statistiche Siamo arrivati Bravo Credili Oh Credili A più due Di difesa Oh Dio La fica Bella lotta Possiamo procedere Amici Vai Benvenuti Ragazzi Dalla live Di Iago Com'è andata Kaizo Ironmoni In tutto questo Che non vi ho Non ve l'ho neanche chiesto Perché ero Preso a bestemmiare Eh Dobbiamo arrivare A 42 Per fare il simbolore Ragazzi Questi sono i nostri Pokemon generali Frutto di una No damage Questo è il nostro Salvataggio Di 520 20 ore Arrivati ad Aranciopoli Fuck Porca troia Qua è fortissima Arrivati ad Aranciopoli Domani su youtube Seguite la mia live Di Kaizo Ironmon Perché stremerò su youtube E vediamo cosa riesco a fare Il mio record È arrivare a Celestopoli Letteramente 20 attempt Due volte a misti Sette fuori dal lab Porca troia Bravo però Cioè La Kaizo Ironmon È molto fortuna Porca troia Ok mi recupererò La live Va bene Però ok che è Molta fortuna Però in 21 tentativi Arrivare due volte a misti E chapeau Ah Aranciopoli Però senza aver fatto misti Ok perché stremi su youtube Per testare la piattaforma Ragazzi Molto semplice E ci sono tanti test Che voglio fare su youtube Allora Beh senti Starta con Sto non farò Squire È giocabile Così Ho Il Qu'è L'organizzazione Il Io neanche lo provo, questo, sinceramente. Lo dico molto chiaramente, non ci provo nemmeno. Allora, beh, di nuovo Starmi, però è già un po' meglio. Insomma, Starmi e Arcanine insieme sono abbastanza sinergici. Servirebbe qualcuno che tenga benino l'elettro e la terra. Eh, certo. Guarda che mi tocca fa... Dai, Dio! Benvenuti all'azienda Lott... Eh, certo, no, è chiaro, no? La vita del resto. Sei un pazzo. Forza antica, busta te. Busta te. Lascia perdere, fai niente, non è importante, tranquillo. Riposo. Forza antica, perfetto. Si è bustato ora, quando non ha più mosso. Eh, questo è un meme incredibile. Vabbè, Switch è dentro Arcanine. Perfetto, mi aspettavo una situazione del genere. Stai. Lotta 2! Tipo ghiaccio, Starmi, Arcanine, Don't Fan. Io vado per comunanza di Typing, ah. Mi serve uno che regga bene la terra. E prendi... Il primo try lo faccio davvero a scazzo. Prendi Whizzing su Don't Fan. Vediamo come va. Malissimo. Lo dico io come va. Malissimo. Starmi poi vola per l'Aprasam. Anche qui devi switchere sempre. Allora, c'è chi dice di no. Io nel dubbio lo faccio. Dalla 21 in poi smetto, perché a quel punto provo a tryhardare. Però fino alla 21, secondo me... Cioè, giocano cazzo gli avversari, quindi il gioco vale la candela. Ecco, mettiamola così. Qua Starmi in ciabatte, perché la gente non lo considera. Ok, fuoco fatto. Non fa niente, non è importante. L'azienda Lotta ti fa pensare a tante cose. Tipo volante. Lui cosa aveva l'Apras Gredi? Beh, io qua faccio volare sincero, eh. Starmi qua fa cacare. Metti l'Apras. 42 vittorie, ragazzi, di fila. Mamma mia, però. Corare questo coso. Visotruce. Sei a meno uno. Crit. Eh, non si può... Eh? Dio! Ma questo c'è a fuoco ardore. Ok, va bene. Non me ne sono accorto. Potto fare extra rapido. Impossibile non essere parlati di Dragospiro. Ok. Stagli sotto l'Apras. Ho fatto una merdata io, eh. Comunicazione di servizio qua. Però Arkane è comunque bello forte. Qua, levo Weezing. E prendo Machamp. Per quanto poi Machamp non è esattamente mio padre. Guarda che bel team prima gen. Guarda che bel team nostalgia. Extra rapido. Wailord. Rientro di Lapras che sto tranquillo. Me la cello un attimino. Lo scoutiamo un attimo. Ma fai così. Addormentolo di canto. Ok. Entra di Machamp ora. Certo che mi so Incrocolpo. Oh, brutto colpo di Incrocolpo. Ogni tanto si può... Ogni tanto posso godere anch'io. Doppio brutto colpo di Incrocolpo. E che non te lo butti. Guts? Abbiamo Guts? Vedere. Ah, sì, abbiamo Guts. Interessante. Oh, forse i critteranno anche inutili. Ci ha parlato, se non altro. Ehm... Tiflusion Wailord Raichu. Ma guarda, sto puto considerato come sto Arcane. Canine. Possiamo farlo volare. Non avendo Intimidate perde praticamente quasi tutta la sua utilità. Certo, era comunque meglio di sto cesso, però. Senti, Attractor. Canto. Antisuono, ma pensa te. Va bene. Chi si ricordava che Mr. Meme aveva essere l'abilità antisuono? E alzi la mano in chat per dimostrare di essere migliore di me. Grazie. Ancora Attractor. Canto. Tanto lo stava. Una Lamberri. No, ok, perfetto. Adesso sto iniziando a piangere, ragazzi. Non so se è chiaro. Switch della CPU di Pokémon Smeraldo. Evento più unico che raro. Ti pare che io devo giocare di canto? Incrogolpo. 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 Ale. Lotta 6. Non sapevo manco se esistesse antisuono. Molto bene. Eccellente. Non mi sembra che avesse un tipo prediletto, vero? Vabbè, ragazzi. Qua sappiamo tutti quale è lo scambio giusto da fare. Dentro sto vapore è un assassino. Stavo notando che ha veramente tanti PS. Amnesia. Vuoto. Vedo il problema. Ale. Occhio che poi Slaking, 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 Slaking non lo butti mai giù, eh. Fai così. Preserva coso. Qua vedete se devo andare di fuoco bomba. Giorno di sole. Non si butta mai. Spam di muro di fumo. Vapore al morso. Vorremmo averla setappata per vincere, eh. Vorremmo andare molto male per perdere. Bene. Lotto a set, immagino, no? Slaking e Redacti. L'Urssering. Miltank che attrae il Spogon Maschio. Vendetta definitiva. Ma cazzo se... Guarda, qua sarebbe lo scambio più razionale, sarebbe Vaporeon Slaking. Puntualmente. Questo è più veloce di me. Switch. Ah, ok. Per tenermi Psychic. Bene. Se vado a più uno di Amnesia. E' attrattato. Oh sì! Oh sì! Però non credo. Nick, grazie per il Prime. Benvenuto. Nick 993 ha rinnovato l'abbonamento per 11 mesi. Grande crappo. Hyper la Solink anche se la guarderò dai vod perché è di mattina. Eh, lo so ragazzi, però... Allora, non sarà sempre la mattina, eh. È che il Buonago ha degli orari un po' particolari con il suo lavoro, quindi dobbiamo inserirla quando vogliamo. E se vogliamo finirla prima di Scarlato Violetto dobbiamo iniziare la prossima... Ehm... Dobbiamo iniziare la prossima settimana. Quindi... I vod saranno lì, per i sub sono gratuiti, per i... Cioè, per i sub sono visibili da subito. Per i non sub, con ogni probabilità, noi promettiamo... Io e Fabio, sembra una campagna elettorale, ma cercheremo di caricarveli su Creepy Live in tempo utile, cioè subito il giorno dopo. Ci... Ci impegniamo per bene a fare sta roba qua e... Ma sta piaciudanza eterna, scusami. Dai, muore. L'88. Vai. Comunque sarà dalle 11 alle 14, quindi se uscite da scuola tipo alle... 12 e mezza, 13, come uscivo io, potreste collegarvi. Dove posso trovare il vostro programma elettorale? Nelle info del mio canale di YouTube, dove c'è scritto che sono un po' filosofo e un po' pagliaccio. Questa è il mio programma elettorale. Bonus pagliaccio per noi. Vedete la X. Andate a votare il 25 settembre. Per favore. Per favore. Potreste, se avete l'età giusta, recarvi in ste cazzo di cabine elettorali e mettere una X su un simbolo? Senza approfondire quale, perché altrimenti è finita. Potete andare a votare. Grazie. Trebbe essere utile per il Paeson. Secondo me. Nidoquing. Snorbucks. Victorin Kul. Su questo non posso fare battute perché mi bannano. Marion Aeracross. Bello questo. E Agron. Agron Weasley. Belli i nomi che abbiamo creato. Marion Aeracross. Mi ha fatto molto ridere. Se il bonus pagliaccio è una legge ad persona per me, ma certo, ovvio. Va bene. Aeracross non se ne ha comportato malaccio, no? Oddio, in realtà. Sì, senza sta blotta in effetti è un po' un abominio. Beh, c'è da dire che sta blotta in sto gioco non c'è. Non è nemmeno troppo colpa sua. Diciamo. Senti, chi è il più veloce? Direi Aeracross. Io farei Aeracross. Marion Aeracross. Snorlux. Che ti regge bene psico e fuoco. Grasso spesso. E muoia. E poi per il tipo volante Aggron Weasley. Viene un po' da piangere a giocare Aggron Weasley. Però vai, Aggron Weasley. L'inizio spettacolare, se mi posso permettere. Entragli qua. Ma qui io dubito fortemente che lui possa farmi davvero del male vero. Ok, qua ho tirato riposo per sicurezza. Metti che è cretta. Ok, muori. Qua sono a più... Sono a più uno. Bello! Arriamo a... Arriamo a speciale mio padre. Comunque in crocolpo ha deciso che andava tirato. E va bene. Qua... Snorlaxo spammo solo A come uno sesso. Mega corno. Non mi stare. Bravo. Lotta 9. Tipo fuego. Ma guarda... Qua... Snorlax per slowking mi sembra molto safe. Onestamente. Perché contro il tipo fuoco? Perché ti tiene bene sia... fuoco che psico. Dietro c'hai Agron per... Qualora dovessi pararti il culo su un tipo terra. Qui gli entri nel cervello. Non c'erano dubbi su questa cosa che questa cosa sarebbe successa. Ma ha tolto surf che erano tutti i tipi fuoco. Wow. Wow. Posso... Posso comunicare al... Dio bestia. Posso comunicare al mondo il mio wow. Lo comuni... Wow. Tienilo Agron. Va bene tutto ma... Agron Weasley! Frana lui. Bello. Agron Weasley bravo. Agron Weasley! Agron Weasley! La sfanga a suo modo. Vedo capiglia Golem qua. Fuori Agron Weasley dentro Golem. Questa roba qua dovrebbe essere gestibile in linea teorica. Great. Questa è la vita ragazzi. Megacorno? Blind? Bello. Blind Megacorno? Blind Megacorno? Ok perfetto. Guarda come sto portando a casa i game. Ok. Io sto sempre a cambiare questo. Fuori con due. Lo... Li vedo... Lo vedo bene la combo. Era cross... Slowking. Ecco qua. Vabbè a parte che lui mosse... Ok. Mosse... Spettro non credo ne abbia perché ha... Questo... E resta in campo fargli dei dannetti. No dai! Bright Powder ragazzi! Però c'è la vita è veramente terribile. Fuoco bomba su Slow. Ma che cazzo sto vedendo? Vabbè. Bello. Sono a raggio sotto giorno di sola. No! No! Tossico malefico! Tuono sotto giorno di sola. Un po' audace. GG è andata. Quinta lotta. No ok. Quello starmi lì non lo prendo mai nemmeno sotto tortura. Flygon... Flygon... Focobomba. Minchia quel Flygon di merda. Però starmi forse è ancora peggio onestamente. Flygon per Porygon 2 dai. Eh certo ti pare. Questo qua è il Gyaridos Fall vero? che mi ha tirato fulmine blind in switch in e poi idro pompa perché no del resto. No! Qual è il problema? Che se adesso gli mando Flygon e questo tira Bora fuoco bomba. Vabbè. Ok. Slacking io qua direi che mi lascio turbo trombare in caso. potevo parrarlo forse. Sarebbe stata una brutta idea. No. Per nulla. Gran fisico sbadiglio. Che strumento ha lui? Vacca prugna godo. Ho terremoto minchia non gli ho fatto una sega. Mega porno mega calcio lo teniamo crit. No! Non era un crit. Wow. Marwak sono a più uno e ho dietro Flygon. No ho sbagliato infatti dovevo fare tu un'onda sono un idiota e ho fatto una misplay. Ragazzi scusatemi Coleotero su terra è efficace e normale? Però... No io gli tiro comunque terremoto normale metti che è misso. Eh guarda che valeva la pena. Lotta 6. Io sto carido se lo tiro dentro. Per quanto sia speciale. Gran fisico lo sbadiglio io ho la bacca prugna megacorno terremoto aretto madonna megacorno è così più forte rispetto a terra effettivamente quasi il doppio. terremoto il procolpo lo teniamo terremoto dai bravo aeragross mi piace megacorno prestissimo megacorno di nuovo qua ci sta missare due volte di fila ci sta di meno missare secondo me però questo valuta un po' tu insomma misclick atom se perdo me lo merito ok non ho perso GG for venusare fuori fuori discussione mentre qua dietro geridos insomma quag sex dime senti aracloss devi uscirne fuori tu anche perché ora ti ha bloccato in campo quindi alternative ne hai poche bravissimo ho qua uno psychic mi auguro di reggerlo ho delle soluzioni dietro io qua piuttosto che mi stare megacorno bello anche qua piuttosto che mi stare megacorno mi prendo un hit facile se fossi vista una volta con noi sta cosa una eh fra io farei questa roba qua attrazione spam di maledizione per cui ti hai tirato ancora attrazione scusami ma si è svegliato a sveglialampo per caso kangaskhan ok boost di forza antica e gg lotta qui a sveglialampo kangaskhan mi sembra che si sia svegliato troppo presto stavo speedando ma può averlo è assicuro sveglialampo ragazzi 100% 100% sveglialampo non esiste tipo volante metagross ok va bene metagross poi metagross dopo chi altro allora soffriamo un po' la terra e particolarmente il fuoco mi spiegate come allora eeeh don fan poi mi spieghi cosa gioco sul tipo fuoco cioè la risposta è mac però c'è non si può vedere la metagross don fan sembra il meme dei 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 drago a tre test è solo che ce n'è una veramente seria e le altre due sono stupide ma certo frate è ovvio no ma è proprio chiaro quello che succederà adesso parralo regi ok buono lancia fiamme contropiede è più veloce di me vabbè non è che ha tirato contropiede forse l'ho sfangata ero a soio va bene don fan frane tanti saluti frane tanti saluti grazie lotta 16 lotta 2 mamma mia che roba tra l'altro buonissimo se mi permettete scizzor perché è un terreno a debolezza al fuoco cioè risardo non è male se voglio counterare il fuoco charizard può essere una soluzione e anche immune alla terra però viene distrutto ovviamente dal tipo dal tipo terra se ha una mossa roccia che vuol dire ce l'ha sempre qua scizzor ci espone troppo al tipo fuoco secondo me la scelta migliore è charizard su mark ma allora sapete perché ha tirato breccia sul veleno perché nei primi try niente i typing contro cui siamo sono perfetti perché nelle prime maniche l'azienda gioca a caso fondamentalmente fondamentale si può semplificare il tutto dicendo che gioca a caso tutti adesso siamo deboli al tipo fuoco va bene qua gold vabbè metagross dovrebbe oh il problema è che senti oh boh vabbè poi mi spiegherai perché non l'hai fatto prima faccio sta giocata per entrare safe di metagross e poi gestirla con lui vai lotta 17 ok qui gold non male su charizard veloce output offensivo e tiene il fuoco questo potrebbe avercelo fuoco pugno però se c'è fuoco pugno c'è anche gli altri presto in campo tanto giocano a caso ok typhusion lui ha solo una mossa offensiva quindi gold è safe sì ma sto gold fa cagare dimmi che è un acqua dietro per favore pego ooooh 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 molto bene questo gli sto dietro gli do fastidio questo è molto buono vai da un po' fastidio sul tipo terra per carità tipo acqua il prossimo però va bene così gold con incrocolpo allora ragazzi vi chiedo di non fare domande per piacere oh no ferali sesso è quel ferali sesso in realtà metagross non dovrebbe avere problemi esagerati no non so cosa abbia fatto ha fallito noi non abbiamo lumi in polvere quindi era una mossa dei puffi comunque no bravo metagross minchia il counter perfetto ho tutto il mio team metagross devi lotta non mi ricordo più cosa volante questo starmi con surf non è male mettilo su tentacral ha fallito idropompa ok ci sta ok starmi con fumine ottimo qua stiamo un po' in campo con meta dai che forse lo tieni riposino lui ora torrent va bene viene giù aerodactyl donfan secondo me se lo mangia lui forse tra l'altro è anche choice band bravo donfan bravo donfan bravo donfan bravo donfan lotta 19 lotta 20 scusatemi credo perché non lo vedo se lo state chiedendo non ha un tipo prediletto lui aveva blast toys fuori starmi dentro blast toys direi alterniamo il tipo acqua lì dietro bello easy win easy lacrime se non lo butti giù lo teniamo oh no lotta 21 allora visto che metacross soffre del tipo terra potrebbe e siamo un po' farraginosi contro l'acqua io prenderei septile e lo metterei su hondum il suo septile abbiamo visto un attacco ero assalto quindi dovrebbe essere il solito se non ha una stab di tipo erba impazzesco ok bello molto bello occhio qua però che lui fa facilmente geloraggio io rimarrò un po' in campo forse blast toys blast toys scontatore prima o poi l'ho critto ma che appunto allora io ho paura che se switch dentro ecco fammi andare di metto il pugno magari busto posso setupare il doppio team e beh effettivamente siamo buoni quando cacco mi ha cretato di brutto ok mi voglio boostare anche l'attacco fisico con tutti i meteor pugno possibili oddio non tutti un po' tieni da parte spiegate quante riprese ah mi spiegate perché è tutto sto danno anche se mi spiegate perché italebora è a meno 6 di precisione base terra chiama azienda lotta è a meno 6 no 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 dai eh bello sto critto ragazzi hittano tutto io ho setup 6 doppio team impossibile non hittare per lui dai intanto sei un coglione tirerai le mosse dei puffi e non posso attaccarlo io lui se lo spam redemo un bacio ok ma il tutto è di un disgusto di un disgusto ok Ragazzi vado a scontro Te Vai Lotta 22 Switchando sempre Pokemon Qui ci arrivi Tranquillamente secondo mamma A Lotta 22 Non è un dramma Da qui in poi possiamo anche smettere di switchare Perché da qui in poi tryhard, Ursaring, Xato, Dustops, Dodrio, Forester, Stretcher De Dio can... Tante però Perché non dare solo una mossa Di output di danno a Ursaring Che poi lo terrafermo Con la bandana Psychic per fullback con palla ombra stor di raggio Avrei mai pensato di dirlo ma non sembra male Dusclops Buttalo Dodrio Oh si Buttalo Oh si Diego grazie per il terzo mese Ma per noi è anche due e mezzo Considerato che abbiamo Raichu Lumi in polvere Dai sono pronto a vedere le mosse Tuono shock Full minuto Ah class Mega calcio Cioè questo Raichu è lento perché hanno dovuto tirargli sull'attacco fisico per avere un mega calcio potente Perfetto Perfetto Oh qui L'unico buono mi sembra Dusclops Io raga raggio Ve la ragiono così Dusclops Palla ombra Sono bei danni Riposo Baccastagna Oh si Oh si Oh si Alice la lontra Una debolezza Spettro Dodrio per 4back Alice grazie per il prime Alice la lontra Grazie per il prime Dodrio c'ha 300 debolezze però poi a quel punto Tutte comunque tenute più o meno a bad Sì ma ragazzi non si può essere all'otta 22 con sta roba C'ha Cret Oh porca troia Glielo schiompato Ok che culo Che culo Va bene Io ho tirato riposo a blind perché ho detto boh vabbè Senti sto roba potrebbe avere lancia fiamme per quello che ne sappiamo Eh però ha anche palla ombra Non mi lascia morire Dusclops in casa Dodrio secondo me kill No Dodrio No cazzo Ok però Siamo più veloci eh Baccasalak Beh il flagello gli spaccherà il cervello a lui no Resistenza Slot 23 ma che fatica Geridos contro Rudy è proprio lui Mi spieghi che cosa prendo io qua Lanthorn su Su Forredress Non prendo niente Oh Lanthorn copre benino Ductrio Cioè le sofferenze di Ductrio le copre benino Lanthorn E hai un po' più di coverage Dal suo Forredress ragazzi può esplodere e togliere i problemi Non lo so Su Lanthorn li abbiamo visto fare fondamentalmente solo surf Però Lanthorn potrebbe avere Volta Absorb Tanta roba Dodrio entra si coprono bene Non lo so amici Ci prendiamo un po' sto rischio Obiettivamente Forredress per Lanthorn Forredress c'è quell'explosion Però se tanto deve entrare in switch Eccala Ottimo Non può essere un altro crit Ok Non tenta andare ti prego Non me lo merita Bene Ottimo switch qua su Lanthorn Dodrio dovrebbe essere Proto safe Bene Vaporium Poi abbiamo Cosmo Io per 4 back te lo tiro Tieno sotto scacco Tieno sotto scacco Tieno sotto scacco Dai Vinta Ale 24 Sì l'altro rischio Ma è fecaccio Ok Vaporium correposo Non è che mi convinca molto Sarò abbastanza onesto con voi No ci sta che quel danno di fake out sia così alto Dodrio ha delle difese dei puffi Comunque molto alto Qua non switch ragazzi Io qua non switch Eh il record è Lotta 26 Quindi lotta 25 è completata Ok Potrebbe avere lui Lanthorn io non penso che possa incontrare troppi problemi Dimmi con una bacca prugna Bene Lanthorn voida Bravino Sto piattolo che muore lui da solo Machamp Vostro onore Mi dichiaro Sono a roll di terremoto? Qua non entro mai di Dodrio Qua piuttosto mi lascio killar Bello Ragazzi Machamp lancia fiamme Dobbiamo provare Dovrei fare una serie In cui gioco con I pokemon Ma sbaglio tutti i set Tipo una serie per il pesce d'aprile Qua ci suicidiamo E lo shottiamo Ma Gesù Disse di no Quel di Questa è lotta 25 Da fare Quindi Qua eguagliamo il record Allora Per quanto facciano cagare Loro tre Non mi dispiacciono Come sinergia Ci troviamo d'accordo Dovvero Mi confermi che L'anturn Risplendente Wow L'uticolo su L'anturn È l'unica opzione Con una logica È sicuramente Un filo Più veloce Però non hai la coverage Fulmine E gelora No Però l'anturno è un buon set Mi assumo la responsabilità Di questa Potenziale Merdata Quale mi ha fatto Intimidate Io non ho niente Da dirgli a sto coso Provo maledizione E poi Gli riposo nel muso Ok Ok Donfan Io maledico anche questo Ragazze Mi faccio fuori Ma più che altro Per darmi il free switch L'anturn 205 Se è più lento di Donfan Me ne vado Ok Milton Capiamo dietro Dodrio Posso stargli Posso dargli fastidio E poi Ammazzarlo Ok Record eguagliato Si ma che sofferenza Se esco vivo Da streak 28 Considerate che potrebbero Apparire leggendari Probabilmente Possibilità bassa Ma potrebbero apparire All'unica serve Tauros per Dodrio Ora A surf Però è un intimidate Non sottovalutiamolo Aveva surf Ma aveva anche Sdoppiatora Però è mixed Vuol dire che è stato Col culo Non lo so Mi sto trovando bene Con loro Quindi Qua l'anturn Gelo raggio Questo se lo mangia Dovrebbe incassarlo Oh no E vabbè Sacca l'anturn Oh e l'anturn è più veloce Bravo l'anturn Che soddisfazione Surf Fallisce Bello Ok Qua tanto Dodrio Se non va in campo Ora muore Resistenza Bacca Salak Flagello Lot 27 È record Nostro di oggi Eh non che Credo mio Record generale Sull'azienda Lotta di Pokémon Smeraldo Che però non ho mai Giocato seriamente Quindi Vale quel che vale Andiamo così Gengar Uh Vabbè Ok Ok Armaldo 28 Ah record generale Non lo so in singolo Ragazzi Non ne ho idea Sto puntando al simbolo oro Non è il record Poi per il record C'è A parte che c'è ago Ma poi Magari più avanti Ok Tipo normale Qua ci possiamo giocare Il tutto per tutto Tipo normale Per dire Qua buttare dentro Armaldo Secondo me È una call Furbissima Incassa le hit Fa bene Secondo me Qui Armaldo Lo dobbiamo buttare dentro Raga Rocciacoleottero Tipo normale Vuol dire che Dusclops Però è Vabbè Dusclops Però con maledizione Riposo Sui normale Capace che ci Cava fuori qualcosa In realtà Via Dodrio Explode Explode potrebbe avere Un po' di mosse fastidiose Anche surf Prova a tirare No Però palla ombra Figa no Ok Palla ombra Non me l'aspettavo Va bene Qui Ci lasciamo Killare Entriamo di Lanturn E lo shottiamo Spero Ok bene Miltank C'è Armaldo Dietro Armaldo Choice Band Ok Buono sapersi E allora Si ha maggior ragione Teniamolo per ultimo Maledizione Surf Bravo Lanturn Credo che abbia fatto Scontatore Specchio Velo Lui Tieni Lo tieni Uno lo tieni Sei forte Lanturn Lo tieni Lo tieni Yes Non so neanche io Come sono uscito vivo Da questa streak Ragazzi Ho un team Di bot Fondamentali Però erano davvero Sinergici Vai Ultime due streak Se ci va bene Ovviamente possiamo Perdere quando vogliamo Wow Wow Certo Accompagnati Da Allora stop Stop Più guardi questa cosa Più c'è un problema Allora il primo problema L'avrete notato tutti Ci sono due Misdrivas Diversi Ora Moltres Fangosberla Ho un'idea molto chiara Suicun Moltres a coprire L'erba E signori Lo sto per fare davvero Meganium a coprire Il tipo elettro Porca Guarda come Ah questa roba È cursatissima Questo è il team Più cursato Della storia Dell'azienda Lotta Io non ci voglio Credere Va bene La premessa Ovviamente anche Gli avversari Potrebbero avere Leggendaria Ma per ora Direi che è solo Dasclops Calmind Calmind Riposo Surf Surf Dugon Questo potrebbe avere Puro gelo Io gli vado Potrebbe avere Il puro gelo No Tranquilli Sono più veloci Io di un meglio Ma No Tenilo Brutto colpo Questo Vai Bene Lotta 29 Giusto 30 Eh no Perché Questo era 29 Quindi adesso Ho appena Skipato 30 Questa lotta 30 Abile con il tipo Volanta Direi che rimaniamo così Con questi leggendari qua Direi che Potremmo switchare Meganium Per carità Però guarda qua Meganium Cosa si inventa Ora secondo me Guarda cosa si inventa Meganium Porca traia Non ho aromaterapia Parliamo in un attimo Bene Sfruttalo fino alla fine Meganium Oli potrebbe missare Quando vuole Io mi metto dietro Un substitute Gli lascio il tempo Per riflettere Porca troia Che set Terribile Mamma mia Non vorrei mai Trovarmi contro Questa roba Mi verrebbe veramente Un aneurisma Guarda quanto è Disgustoso Fra un aneurisma Totale Veramente da Incarcerare Metta il substitute Fai entrare Melo d'erba Oh no Ragazzi Oh no Mi sento sporco Lotta 31 Che brutta cosa Qui tu mi dirai Cambia Meganium C'è Dragonite Che cazzo Me ne faccio Questo Loro sono coperti benissimo Appena arriva il tipo Elettro Io ho vinto Con un Meganium Del genere Non lo vado a prendere Quel Dragonite Che cazzo Me ne faccio Non credo Lui potrebbe aver Abisso Surf Ok Terremoto Va bene Metagross Poi c'ho Moltres Però qua potrebbe Arrivare Frana Tuono Pugno Invece Io riposo Fa castagna Tuono Pugno Vabbè no Dovrebbe Metagross Lui in polvere Ok Vieni giù Meno d'accordo Molto meno d'accordo Porca di quella Puntana Porca di quella Puntana Porca Porca Stai Moltres Stai Moltres Stai Moltres Brava Umiganium Ok dai 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 Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai Substitute 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 Subito Subito Substitute Vedi Substitute Fagli finire Sti centri pugno Di merda Bravo 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 Bravissimo Bravissimo Mamma mia Che soddisfazione Meloderba Non entra Meloderba Non entra Substitute Perfetto GG Bravo Mega Mamma mia Ragazzi Che Pokémon Pensa Qua potremmo Guarda Ci sarebbe nido Qui sui tipi Electro Ma meganium Si sta comportando Talmente bene Che Minchia Però Metagross Meganium È funzionale Io tengo Meganium No cazzo Meganium È funzionale Tranne contro Sta roba Però Minchia È la coverage Perfetta Per tutti Tieni su Il Q Cerca di far Danni Eh Doppia par Fulmine Riposino Buononda Geloraggio Geloraggio Buono Potrei andargli In predict Su Fulmine Qua Volendo Adesso la CPU Ragiona Per Forbecco Tieni Omega Bravissimo Ottimo Farsi seme Entrato Qua arriva Per Forbecco Teniamo Qua arriva Di nuovo Fulmine Di nuovo Per Forbecco Ora è prevedibile La CPU Qua temo Che siano Tutti Veloci Uguali Vedi Meganium Che forse Regge Merda Hai fallito Che sfiga Pure Che sfiga Rip Fra il Non c'era un Counter Era il Counter Sai cosa vuol dire Perfetto Perfetto Il Counter Perfetto Non c'era un Altro Pokémon Nel Gioco Che avremmo Gestito Peggio Non mi è venuto In mente Zapdos Ma Metagross Perché siete convinti Che Metagross Gestisce Zapdos Mai nella vita Nidoquin Però ragazzi Nidoquin E va bene Nidoquin Non hai contro Zapdos Hai contro Lanturn Sei nella merda Uguale Registil Ragazzi avete idea Di quanto sia Scarso un Registil Registil È una Sega Non fatevi Beitare Perché è un Leggendario Registil È una Pippa al Sugo È scarsissimo Era Antifunzionale Qua la verità È che Se non era Zapdos Potevi giocarti Il doppio team Ma dai Ma ragazzi Potevi giocarti Il doppio team O giocarti Il gioco Di perforbeco Con Moltres Anziché Con Suicune Per poi Beccarmi Fulmine No ragazzi Voi vivete Su un altro mondo Cioè Secondo voi Tirare Doppio team Era più conveniente Che probabilitare Un 55% Di Meloderba Raga Ripassatevi Le percentuali Della storia Del mondo Perché non è così Era giusto Se entrava Il mio Meloderba 60% 55% Lui dormiva Era vinta Ma che devo tirare Doppio team È proprio Questo è Statisticamente Sbagliato Ripassatevi Le statistiche È statisticamente Sbagliato Non è un'opinione Questa È così Avrei provato La Spitai Con Moltres Per sacrificare Magani Ma Blim Dio bestia A parte che Non lo sappiamo Ma Ripeto Il concetto La Spitai È 50 50 Meloderba È 55 Questa È statistica Ragazzi È statistica È statistica Non Non capisco È statistica Cioè ragazzi Non era davvero simile Gestire quello Zapdos lì Peraltro Dopo che Primo turno Beccato Due para Di fila Con lui Che è riuscito A mettere Uno schermo Luce In santa pace Cioè È andata male Basta Non è che c'è Molto altro Da dire L'ho presa Nello sciulo Perché Perché il gioco Mi ha messo Contro il counter Ideale Purtroppo Sinceramente Magani Si stava comportando Benissimo E questo Gli si deve dare Atto Oggettivamente Zapdos Era un problema Zapdos Non ho pensato Quello è l'errore Cioè l'errore è stato Non pensare Preventivamente A Zapdos Perché a quel punto Forse dire Ok va bene Meganiun si Però Nido Queen Glielo butti dentro E ci sei Lo sappiamo Che l'azienda Ha una certa Si studia i counter Da mandarti contro Lo sappiamo Che funziona così Regisil Che è l'unico tipo acciaio Con una difesa speciale Immensa Per reggere Moltra Cioè Va bene Noi semplicemente Alla prossima Anche perché direi Che stacchiamo Perché mi sembrava Un ottimo try Questo ma Ora sinceramente A mettermene a fare un altro Eviterei No Nido King Si prendeva poco Da per forbecco Però entrava su fulmine E poi comunque Nido King Doveva far terremoto Ragazzi Devi vederlo Perché se quel Nido King Non aveva frana Dove andavi La verità è che Zabdos Ci counterava Al 100% Regisil Forse lo wallava Un minimo Ma Dipende Dalle mosse Poi Sinceramente Zabdos Che shot Moltres di fulmine Anche mai Ha lasciato un po' Perplesso L'unica cosa È la calm mind Con sui Allora Sni Sni A parte che ci ha Parlato tre volte Di fila Cioè ci ha parlato Due volte di fila Quindi anche a farla No La verità è che Io non conoscevo Il set È chiaro che Se Lui mi fa Schermo luce Poi lì cambia tutto Però io non so Che lui è a schermo luce Ovviamente La mia idea Era Sui Kun Geloraggio Meta vita E sarebbe stato Meta vita Senza lo schermo luce Anche di più In realtà Perché a schermo luce Cos'è 1.5 Sarebbe stato Un 60% Ti beccavi un fulmine E poi iniziava A fare il giochino Con meganio Mentre meganio Prendevo un fulmine Parassi seme Recuperavamo vita Facciamo il giochino Tra uno e l'altro Lo gestivamo E poi dietro Vedevi cosa inventarti A una certa Saccavi meganium Si tappare Calmind Sì Poteva essere un'idea Ma tanto ripeto Se prendiamo 3 parra All'inizio C'è un tool Per vedere i set Dell'azienda Sì sicuramente Nel caso lo useresti Sì sicuramente Però Prima con calma Però questo è stato Un bel try Vittoria di fila 31 Non era Non era un brutto try Dai Non era terribile Sono curioso Vedere una cosa Però prima Moltres Velocità 90 Sabdos è più veloce Di Moltres Ragazzi Quindi era il counter Non ideale Di più Quindi Necrozma Entrare di Moltres E poi è No Moltres Moriva Non aveva senso Spiace Niente Era il counter Ideale Che cazzo Vi devo dire Vi dico Che stacchiamo E che Ci vediamo Domani su youtube Andatevi Andatevi a vedere Andatevi a vedere I trailer Slash Premiere Slash Tutto Noi ci vediamo Domani Quindi su youtube Con l'azienda La prossima settimana Ammesso che io riesca A inserirla in programmazione Perché sarà una programmazione Molto fitta Potremmo provare A fare un altro try Però Sinceramente Siamo già a due rette e mezza Di live circa Non ho voglia Di fare un altro try Vorrei fare Tutto in un singolo video Così poi su creepy live È fatto bene Ci vediamo domani Domani è una giornata Impegnatissima Domani avete Short Alle 14 Su youtube E poi alle 13 Su tiktok E anche su instagram Seguitemi su instagram Le bet Non so se c'è un mod In chat Nel caso ve le faccio dare Off stream Poi alle 15 C'è Kaizo Ironmon Su youtube Che adesso imposterò Quindi Occhi orecchie aperte E poi finita Kaizo Ironmon La live vi redirettirà Sulla premiere Del mio nuovo video Del mio nuovo piccolo Del mio nuovo piccolo Capolavoro La live è su youtube La live è su youtube È già impostata Andate a mettere like Il prolemo Andate a cercare Sul canale youtube E poi verrete Redirettati dalla live Al mio nuovo Capolavoro Capolavoro La mia nuova piccola perla Il mio nuovo video Che ritengo sia fatto Davvero molto 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 bene Su Porygon E poi lunedì alle 11 Ancora una volta L'orario è quello che è Però lunedì alle 11 Oppure martedì Su Creepy Live Soulink Pokemon nero e bianco Con Matteo Agostini Kaizo Soulink Pokemon nero e bianco Con Matteo Agostini Così giocheremo In Nazloc assieme E ci tireremo La merda E Ago dimostrerà Di essere 100 volte Più forte di me Raga Un bacione Grazie per la compagnia Io vado a comprare L'acqua Perché non ce l'ho più Le regole Allora Aspettate Su Youtube Perché Finalmente possiamo Noi streamer di Twitch Partner Streamare anche su altre piattaforme Youtube ha delle funzionalità Molto interessanti Che voglio testare Ve lo dico già adesso Per valutare Un ipotetico Passaggio Da Youtube A Twitch Se alcune feature Dovessero dimostrarsi Molto funzionali A quello che faccio Ve lo dico chiaro e tondo Non nel breve futuro Nel medio lungo termine Diciamo Potrebbe succedere Questa roba qua Ve la dico adesso Perché ripeto A me questa interazione Che Youtube Da Fai Spegni il gioco per favore A me questa interazione Che Youtube ha Tra contenuto video E contenuto live Mi attizza molto E vorrei fare Oltre a tante altre cose Che Twitch Insomma Negli ultimi tempi Ha un po' trascurato C'è questo aspetto qua Che voglio assolutamente provare Perché lo trovo Iper funzionale Al mio canale Quindi Quello Quella è una Farò dei test Nel corso Di questo Settembre Slash ottobre Dirai E magari Fino ad arrivare Ad un appuntamento Fisso a settimana In live su Youtube O Semi fisso Altra cosa Le regole Della Kaizo Soul Link Visto che Kaizo Impleca L'inserimento Di altre regole Ve le Le scoprirete Direi Lunedì mattina Penso di caricare Un video Anche se Non vorrei In realtà Intossicare L'algoritmo Dopo il video Del caso Porygon Però credo Che un video Trailer Sia da mettere Fuori O lo metto Su O lo carico Su creepy live Alternativamente Così da non Intaccare L'algoritmo Di Porygon E Comunque Ha delle regole Particolari Inedite Che ho pensato Sulla base Di pokemon Bianco e nero Per rendere Pokemon Bianco e nero Più difficili Nei punti In cui Li reputo Più facili Ci siamo In posti Delle limitazioni In generale C'è una regola In particolare Che Renderà Il gameplay In hardcore Nuzloc Molto Molto Più interessante Di una comune Hardcore Nuzloc Un banalissimo Titolo pokemon Ok Cioè nel senso Questo intendo A livello Di pura Difficoltà Tecnico Voi siete abituati A Emerald Kaizo Su questo canale Quindi è chiaro Che non possiamo Io e Ago Portarvi Una hardcore Nuzloc Di un titolo Pokemon Normale Perché Sarebbe percepito Da tutti Come un downgrade Importante In termini Di pura Difficoltà Quindi Quello che abbiamo Fatto Siccome siamo Specializzati In gameplay Molto tecnici È stato quello Di inserire Cioè Questo l'ho pensato Io Mi prendo il merito Abbiamo inserito Ho inserito Una regoletta Che secondo me Rende il tutto Un po' più spicy È una regola Che incentiva L'esplorazione Vedrete 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 Alle ore 11 Di lunedì E Poi Se non ci doveste essere Le prime due live Saranno recuperabili Tranquillamente Lo sapete Raga Bacione Adesso stacco davvero Ci vediamo domani Ciao a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti